Quando mi sono alzato stamattina ho detto, ma perché devo andare alla casa dello studente, non è in montagna? E penso che parecchi di voi abbiano fatto lo stesso pensiero. Siamo qui a masticare un po' di pane. Quest'oggi noi ci troveremo di fronte a uno di quei testi che sono un pochettino la crux interpretum, veramente difficili, per colpa di una parola. D'altra parte è da duemila anni che diciamo questa preghiera e i nostri fratelli orientali la dicono in greco, ma questo non significa che abbiamo capito tutto fino in fondo. Oggi abbiamo la pretesa di farlo. Capiremo tutto? Beh, capiremo qualcosa di più senz'altro. Che restino aperte altri orizzonti di significato, su questo non ci piove sopra. Partiamo. Il testo materiale che noi dovremmo affrontare si trova dalla linea 10 alla linea 14. Noi abbiamo il testo di Matteo in merito, è il testo della Didachè che è perfettamente a fotocopia con quello di Matteo. Vi ricordo che la Didachè è un catechismo della Chiesa nascente, meraviglia, fatto di 20 fogli. 10 paginette, 20 facciatine. Ed è molto più antica del Vangelo di Matteo. Fate conto che il Vangelo di Matteo lo collochiamo verso l'85 d.C. Mentre la Didachè, nella sua parte liturgica, è precedente il 70 d.C. Quindi potremmo dire che è circa 20 anni, sicuramente 20 anni prima di Matteo. La Didachè è quasi contemporanea alla pubblicazione del Vangelo di Marco. Come notate, ci sono alcune piccole varianti. La prima parte del testo di Matteo, Didachè e Luca sono uguali. Il pane di noi, Tom Epiusion, che noi traduciamo con quotidiano, sbagliando, ma non importa. Poi cominciate a notare che c'è qualche variante nel verbo. Matteo ha dos, Luca ha didu. Se noi volessimo essere rozzi, dovremmo dire, boh, insomma, non c'è tanta differenza. Però gli evangelisti sapevano quello che scrivevano. Prova ne sia che Matteo mette l'imperativo auristo e la parola semeron, l'ultima parola, oggi. Mentre Luca mette l'imperativo presente, didu, però poi mette to catemeran, quello secondo il giorno. Allora c'è qualche cosa, una sfumatura diversa. La traduzione che noi abbiamo oggi è una traduzione che asfalta il testo. Perché diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, sia quando leggiamo il Padre Nostro di Matteo, sia quando leggiamo il Padre Nostro di Luca, ma non si può esattamente tradurre così. Perché? Perché di per sé l'imperativo presente è un tempo lineare. Io mi ricordo le prime nozioni di greco in quarta ginnasio, prima superiore, il professore ci ha fatto una linea e poi ci ha fatto un punto. Dice questo si chiama tempo lineare, questo si chiama tempo puntuale, e ha per la prima volta parlato di tema del presente e tema dell'auristo. Immaginatevi, noi ragazzini avevamo Tex Willer e compagnia bella in testa, altro che i temi. Va bene. Nonostante questo il professore è riuscito a inchiodarci dentro alcuni concetti. Allora la traduzione, che potrebbe essere più rispettosa del testo originale, e per Matteo sarebbe continua. È un'azione lineare. Continua a darci il nostro pane e piusion quotidiano. Ce l'hai dato in passato, ce lo dai oggi, anche per il futuro continua a darcelo. La cosa che non convince nella traduzione, siamo alla linea dodici, è quel quotidiano legato all'oggi. Quotidiano vuol dire di oggi. Allora il pane di noi, il di oggi, continua a darci oggi. Wow! Neanche in seconda elementare la maestra ti passa una frase di questo genere. C'è dunque qualcosa che non funziona. Lasciamo perdere il quotidiano e atteniamoci a quello che resta. Allora continua a darci oggi il nostro pane. Poi vedremo che significato ha e piusion. Difficile da tradurre in maniera perfetta il Padre Nostro di Luca. Perché indica un principio. È come dire tu sei colui che dà il pane a noi, il nostro pane ogni giorno. Tu sei colui che dà. È un principio, non è un'azione continuativa. C'è una sfumatura diversa in Luca da Matteo che in italiano è difficile dare a meno che tu non faccia una specie di traduzione libera. Ma allora fai un targum, non fai più una traduzione. Cioè mentre traduci commenti. Ecco, queste sono le difficoltà. La difficoltà principe sarà quella piusion. Allora noi dobbiamo affrontare con un pochettino di pazienza il problema del verbo l'enigma di questo vocabolo e piusion e poi con quelle poche gocce di succo di greco che riusciamo a distillare vediamo qual è la teologia che sta sotto. Questi sono i tre punti che noi oggi dovremmo percorrere per capire questo testo altrimenti per istinto spontaneo noi diremmo qui stiamo chiedendo al Padre Eterno la bistecca e il bicchiere di vino. Vedrete che alla fine della mattinata ci accorgeremo che una cosa del genere non è il massimo della comprensione del testo. bene partiamo dal verbo didomi questo verbo certamente esprime una dipendenza da Dio perché noi chiediamo a lui qualche cosa se questo pane dipendesse da noi difficilmente e le lo chiederemo perché ci arrangiamo ora tutti quanti voi ricorderete che esiste un testo nell'Antico Testamento e lo si trova al capitolo terzo della Genesi dove Dio dice all'uomo tu guadagnerai il pane tu non te lo do io ti arrangi tu guadagnerai il pane col sudore della tua fronte col sudore del tuo volto va bene lo stesso. Allora cominciamo già a capire che ci troviamo di fronte a un pane che non è la rosetta nostra c'è qualche cosa che ci sfugge questo è il primo dato ce n'è un secondo se notate sia Matteo sia Luca hanno il carattere della sobrietà oggi ogni giorno non c'è l'accumulo allora la domanda è dove noi possiamo trovare nell'esperienza biblica un dono di Dio che è cibo e che viene dato per la necessità quotidiana la risposta è semplice libro dell'esodo capitolo 16 siamo alla linea 23 la sera le quali e salirono e coprirono l'accampamento al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento quando lo strato di rugiada svanì ecco sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e cranulosa minuta come la brina della terra gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro manhu che cos'è manna perché non sapevano che cosa fosse Mosè disse loro è il pane che il signore vi ha dato in cibo alt ci siamo ecco che cosa comanda il signore raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne un omer a testa secondo il numero delle persone che sono con voi ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda così fecero gli israeliti ne raccolsero chi molto chi poco si misurò con l'omer colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo colui che ne aveva preso di meno non mancava avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne Mosè disse loro nessuno ne faccia avanzare fino al mattino essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino ma vi si generarono vermi e imputridì Mosè si irritò contro di loro essi dunque ne raccolievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava quando il sole cominciava a scaldare si scioglieva quando venne il sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane due omer a testa allora tutti i capi della comunità vennero ad informare Mosè e gli disse loro e appunto ciò che ha detto il Signore domani è sabato riposo assoluto consacrato al Signore ciò che avete da cuocere cuocetelo ciò che avete da bollire bollitelo quanto avanza tenetelo in serbo fino a domani mattina essi lo misero in serbo fino al mattino come aveva ordinato Mosè e non in putridì ne vi si trovarono vermi disse Mosè mangiatelo oggi perché è sabato in onore del Signore oggi non ne troverete nella campagna sei giorni lo raccoglierete ma il settimo giorno è sabato non ve ne sarà se io vi chiedessi di brutto quando è stato scritto questo testo per esempio dopo la deportazione Mosè è del tredicesimo secolo ma il problema del sabato nasce dopo il 538 prima non c'era e quindi si riesce a capire questa insistenza sul sabato come una traccia sicura della stesura letteraria del brano è distante 700 anni dagli avvenimenti quindi c'è la memoria della manna ma è stata arricchita ovviamente da questo dato quello che noi interessa di più è questo modo che Dio ha di far sopravvivere il suo popolo nel deserto giorno per giorno non ti preoccupare del domani ci sono cose più importanti il cibo giorno per giorno è un testo che poi ha generato moltissime altre discussioni penso che voi ricordiate il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni Gesù al mattino fa il miracolo della moltiplicazione dei pani e al pomeriggio nella sinagoga di Cafarnao discute su quello che è avvenuto e la discussione parte dal testo della manna e Gesù dice non è Dio che vi ha dato il pane disceso dal cielo ma è Dio che vi dà presente il pane disceso dal cielo vostri padri mangiarono e morirono chi mangia di questo pane vivrà in eterno e allora comincia a venire il sospetto che dietro a questa dicitura così elementare e apparentemente facile da capire si nasconda forse qualcosa d'altro comunque il pane che Dio dà non è per l'accumulo su questo non c'è dubbio e quindi i doni di Dio sono per il presente non per il domani domani e lunedì Gesù dirà a ogni giorno la sua pena pensiamo all'oggi domani penseremo al domani è un dato che nella nostra cultura forse deve essere modificato perché noi viviamo in un sistema economico molto diverso da quello nel quale vivevano Gesù i suoi discepoli e il cristianesimo primitivo quando il sistema economico di Roma invaderà il sistema economico semitico succederanno disastri penso che tutti quanti voi ricorderete che il povero Paolo dovrà fare le collette nelle chiese pagano cristiane per aiutare i cristiani di Gerusalemme i quali sotto il sistema economico semitico avevano venduto tutto avevano messo tutto in una cassa comune il lavoro che facevano veniva messo in questa cassa comune ognuno prendeva quello che gli era necessario in quel periodo il sistema economico ebraico viene completamente sradicato dall'impero il quale impone il sistema economico romano e il cambio di moneta comporta l'inflazione cioè il depreciamento della moneta precedente e quindi gli ebrei hanno già una prima grossa perdita il guaio è che sotto Claudio noi abbiamo un crollo dell'economia romana e quindi anche la moneta forte viene inflazionata assicché quei poveri disgraziati si sono trovati con niente in mano e Paolo dovrà soccorrere questi cristiani di Gerusalemme che erano rimasti poveri e affamati e quindi cerchiamo di capire che non sempre le cose belle che ci sono nel Vangelo di peso si possono portare nella situazione di oggi bisogna avere il coraggio e la pazienza di fare la transculturazione il criterio però è abbastanza comprensibile quando il credente chiede a Dio ciò che gli è necessario per la sopravvivenza poi vedremo di che tipo chiede le cose in maniera da vivere in sobrietà ciò che è essenziale non deve mancare ciò che è in più dell'essenziale non è necessario questa è un po' la logica che l'episodio della manna fornisce sia gli ebrei di allora sia i cristiani di allora sia noi oggi c'è però un altro testo questo è il testo di Gesù che corre sulla stessa linea del brano che abbiamo esaminato siamo la linea 43 poi disse i suoi discepoli per questo io vi dico non preoccupatevi per la vita di quello che mangerete né per il corpo di quello che indosserete la vita infatti vale più del cibo il corpo più del vestito guardate i corvi si vede che in palestina erano belli da noi non lo sono guardate i corvi non seminano e non mietono non hanno dispensa né granaio eppure dio li nutre quanto più degli uccelli valete voi chi di voi per quanto si preoccupi può allungare anche di un poco la propria vita se non potete fare neppure così poco perché vi preoccupate per il resto guardate come crescono i gigli non faticano e non filano eppure io vi dico neanche salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro se dunque dio veste così bene l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno quanto più farà per voi gente di poca fede e voi non state a domandarvi che cosa mangerete berrete e non state in ansia questo è il messaggio non state in ansia una sana preoccupazione è giusta ma questa non deve sforare in una specie di frenesia per il domani di tutte queste cose vanno in cerca i pagani e per forza abbiamo visto prima sono due sistemi economici diversi cui Gesù mette in evidenza di queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo ma il padre vostro sa che ne avete bisogno ho capito io ma purtroppo il sistema pagano ci ha invaso e noi ci siamo dentro come ha invaso questa lontanissima provincia dell'impero che era il mondo ebraico e il mondo fenicio a nord il mondo damasceno a est e ha fatto il disastro economico della seconda metà del primo secolo dopo cristo e Gesù dunque evidenzia dice i pagani hanno un altro sistema qui da noi si può benissimo dire che il padre vostro sa di che cosa ne avete bisogno perché il sistema economico semitico prevedeva quello che poi è passato nel mondo islamico ogni musulmano deve dare un x per cento dei suoi proventi nell'emosina mi pare sia il 3 per cento ma non voglio dire una stupidaggine anche il povero che vive di elemosina deve dare il 3 per cento in elemosina c'era dunque una serie di paracaduti nel mondo economico semitico che noi non abbiamo tutti quanti ricordate per esempio il tema della decima tu facevi il raccolto cento sacchi di frumento dieci sono la decima a te restano novanta la logica economica del semita era questa io ho una terra ma non sono padrone della terra perché la terra è di dio dio me l'ha concessa in affitto io pago l'affitto la decima è l'affitto che l'ebreo pagava a dio per i beni che erano bene di produzione il gregge sì sono io che lo custodisco sono io che poi commercio con gli agnelli ma il gregge ce l'ho in amministrazione non è mio pago la decima nascono dieci agnelli uno lo devo dare in tassa di affitto questa decima veniva data al tempio e il tempio dopo distribuiva a chi ne aveva bisogno ora capite che il dieci per cento è molto è molto e quindi tra l'elemosina che era prescritta e la decima avevamo un paracadute sociale nell'economia semitica che non esisteva nel mondo greco romano nel mondo greco romano tu non paghi la decima per i poveri e allora è chiaro che voi dovete situare le parole di Gesù in quel sistema queste parole in un altro sistema vanno modificate perché in questo nuovo sistema che purtroppo è il nostro non ci sono quelle garanzie per le classi più deboli che nel mondo semitico c'erano ricordare questo significa non fare gli stupidi quando si prende in mano il Vangelo e si leggono certe cose perché noi abbiamo purtroppo delle persone non metto nessun aggettivo non so ignoranti presuntuose o che ne so per l'amor di Dio che non fanno questo tipo di lettura perché prendono il testo e lo traslocano in qualunque situazione come fosse un assoluto io a queste persone direi hai mai visto di una donna si cava l'occhio è scritto e se hai messo la mano dove non dovevi taglia è scritto eh no allora perché qui no e altrove sì noi noi non possiamo mai mai leggere il testo senza un minimo di preparazione perché altrimenti rischiamo di far dire al testo quello che il testo non ha mai voluto dire la tragedia è questa coloro che leggono in maniera letterale è il testo e sono diversi nel mondo cattolico ma anche nel mondo delle altre chiese leggere in maniera fondamentalista il testo vuol dire condannare il testo al mutismo e noi illuderci di star mettendo in pratica una parola di Dio che non c'è di Dio di Dio